L'IOM, l'associazione degli oncologi italiani, celebra la giornata mondiale per il cancro e dice no ai GAP, ai divari tra regione e regione che impediscono l'uniformità delle cure. IOM, l'associazione degli oncologi italiani, ha celebrato la giornata mondiale del cancro, il World Cancer Day, dedicata ai GAP, cioè alle difformità delle cure. Intervenendo di fatto nel più importante dibattito politico del momento, quello dell'autonomia differenziata che rischia di approfondire ulteriormente le disparità territoriali tra le regioni, tra quelle che assicurano cure di eccellenza e quelle che costringono i cittadini a viaggiare, tra chi fa gli screening che salvano vite e chi, come la Puglia, è ferma al palo, tra regioni ricche e regioni povere. In Europa, ricorda IOM, il 32% dei decessi è associato a povertà e bassa istruzione. E allora l'imperativo è colmare le disuguaglianze delle cure, close the care gap, azzerare i divari territoriali che creano solchi profondi, tra cure oncologiche di serie A e di serie B. Il ministro Orazio Schillacci. L'autonomia differenziata rischia di aumentare questo gap. Guardi, adesso vediamo, tenete presente che dal 2001 che gran parte della sanità è affidata alle regioni. Le differenze ci sono già adesso. Io credo che bisogna analizzare bene tutto il sistema sanitario nazionale. Le ripeto, l'abolizione di alcune cose risale a 22 anni fa. Il richiamo di IOM è forte senza schierarsi del tutto sull'autonomia. Il presidente nazionale Saverio Cinieri, primario di oncologia Brindisi e direttore della Breast Unit del Perlino. C'è bisogno di un coordinamento forte da parte del ministero sulle differenze regionali. Nessuno vuole pensare che si torni indietro all'articolo quinto, anzi si sta andando avanti su altre differenziazioni probabilmente. Ma dobbiamo comunque fare in modo che ogni cittadino, ogni parte di questo paese sia ugualmente protetto rispetto a quello che è lo stato della sua salute. Nel cancro è fortemente influenzato dal fattore P, il fattore povertà. E muoiono di più i cittadini dei paesi europei, quindi di un mondo occidentale, se hanno un livello socio-economico e culturale più basso. E allora il tempo di agire è ora? Sì, il tempo di agire è ora. E non lo dice soltanto il World Cancer Day, lo dobbiamo dire noi, lo dobbiamo dire ogni mattina. E quindi andiamo avanti perché possiamo solo migliorare. È tutto, arrivederci. Grazie.